Fabiano Santacroce, capitano di questo Cuneo che in mezzo a mille vicissitudini arriva a questa ultima partita del campionato, poi ci saranno probabilmente i play-out, innanzitutto un bilancio, insomma come è stato possibile arrivare in mezzo a mille difficoltà alla fine? No, il bilancio è sicuramente positivo, positivo perché siamo riusciti a fare gruppo e abbiamo fatto cose magnifiche Comunque sul campo per essere una squadra che si è appena unita, appena formata, quest'anno penso che abbia fatto veramente ottime cose C'è sicuramente il rammarico di tutta la situazione che ha creato il presidente, quindi sicuramente tanto rammarico, tutti i punti tolti però affronteremo quest'ultima partita sicuramente col pensiero di poter far bene e di salvarci perché ora è la cosa che conta di più Come siete riusciti all'interno del gruppo a continuare ad andare avanti in questa situazione? Tu hai detto che era più facile probabilmente in certi momenti scappare che restare, quindi è da sottolineare chi è rimasto? Sì, assolutamente, infatti anche dei ragazzi sono andati via a gennaio ma tutti abbiamo avuto dei momenti di pensiero profondo a partire dagli allenatori ai direttori, ben compreso, però qui si è creato veramente un gruppo, una famiglia composta da uomini veri quindi alla fine era impossibile mollare, abbiamo delle persone che non hanno preso stipendi da parecchi mesi che continuano a stare qua come i nostri magazzinieri e continuano a lavare tutte le cose praticamente con una sola lavatrice quindi stanno dalla mattina alla sera e riescono a tenere sempre sorriso quindi queste cose ti danno una carica, una forza che in pochi possono dare grazie